Ciao a tutti, mi chiamo Rosa Emilia Dias, siamo qui io e Giovanni Boro per presentare il nostro progetto, il nostro progetto si chiama Madrigal, è un percorso nelle nostre canzoni, nelle nostre poesie, è un disco che abbiamo cominciato a preparare qualche mese fa, io e lui un po' così senza termini di arrivi, diciamo così, senza una scadenza precisa e invece siamo qua per presentare il nostro progetto con Music Racer che ci dà la possibilità di accelerare la produzione di questo disco che abbiamo già cominciato a fare e coinvolgere altri musicisti e autori. Abbiamo bisogno di voi assolutamente perché questa campagna parte adesso e abbiamo 60 giorni per raggiungere lo scopo finale dei Razers, dei sostenitori come voi che ci daranno una mano con le ricompense che abbiamo pensato che possono essere il sostegno attraverso la compra di un CD, un concerto a casa, una lezione di chitarra con Giovanni, una presentazione privata, un tè, un caffè, una cena insieme a noi dove possiamo mostrare quello che stiamo facendo e coinvolgere lì e andando passo a passo verso la conclusione del disco. Music Racer è questo portale dove potete trovare tutte le informazioni a proposito della nostra musica e tutti i tipi di ricompense che abbiamo pensato. Vuoi parlare, Gio? No, che sia una cosa bella per tutti, che aiutateci a completare questo progetto e che vi piace. Sarà il disco più bello in assoluto perché ci siete anche voi, ci sono tutti i nostri amici e qua ringraziamo tutti voi già da adesso e sono sicura che sarà un super successo. Grazie, grazie di cuore. Grazie.